Ciao e bentornati su Fage Network, io sono Valerio Novara. Oggi vi parlo di Crudelia, il film uscito al cinema e su Disney+, che racconta la storia precedente a quella raccontata nella carica dei 101 di Crudelia Devon. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al nostro canale Fage Network, vi consiglio di iscrivervi e attivare le notifiche per essere sempre avvisati dei prossimi video e delle prossime recensioni che usciranno. E vi consiglio anche di seguirci su Instagram, Facebook e Twitch, dove la sera ci piace streammare e parlare di cinema e serie tv. Allora, veniamo a Crudelia, il film con Emma Stone. Partirei proprio da qui. Quando ho visto il primo trailer e ho scoperto che sarebbe stata Emma Stone a interpretare una giovane Crudelia, ho un po' storto la bocca. Sono sincero nel senso che ho sempre visto questa attrice, che a me piace molto, devo dire come un'attrice un po' acqua e sapone, nel senso che aveva interpretato finora tutti i ruoli di brava ragazza. In questo caso mi chiedevo come sarebbe stato possibile per una come Emma Stone interpretare un personaggio che, cito Glenn Close, che aveva interpretato Crudelia nel film La Carica dei Cento Uno e l'aveva interpretata benissimo anche per questa sua mimica facciale, mi chiedevo come sarebbe stato possibile che una come Emma Stone, che avevamo visto in La La Land, bravissima, simpaticissima, potesse interpretare un personaggio comunque antagonista di una storia che conosciamo bene o male tutti, che è La Carica dei Cento Uno degli anni Sessanta, tra l'altro, un cartone della Disney, uno dei classici Disney che più amiamo, anche per me che è la mia generazione, cresciuta tra gli anni Ottanta e Novanta, comunque La Carica dei Cento Uno, ci siamo cresciuti tutti, e siamo cresciuti col cartone animato, in cui c'è questa Crudelia Devon che è già molto più grande di età rispetto a quella che viene mostrata nel film. Il film parte da una Crudelia appena nata, e già da appena nata questa bambina la peculiarità è che ha i capelli per metà neri e per metà bianchi. Per esempio questa è una cosa che avrebbero potuto spiegare meglio, raccontare un po' più verosimilmente, diciamo, nel senso che mi sembra difficile che una persona possa nascere già con i capelli di due colori, a metà proprio perfettamente. Potevano, per esempio, far vedere che la bambina era nata con i capelli tutti neri, e poi a un certo punto, per le vicende che gli accadono, se li tinge per metà di bianco. Ci sarebbe potuto stare di più come discorso. Invece fanno vedere questa bambina che nasce già e già l'ama e l'ha lasciato un po' così. Poi, diciamo, l'infanzia di questa ragazzina che si chiama Estella, bimba ambientato negli anni Sessanta, e la bimba si chiama Estella. A un certo punto, durante una festa in una grande villa di una baronessa, lei entra dentro questa sala da ballo dove ci sono tantissimi vestiti e sfilate di persone di alta borghesia, di nobili, diciamo, e praticamente si ritrova con il suo cagnolino all'interno di questa sala e viene cacciata. Per rincorrerla, la padrona di casa la fa rincorrere da tre dalmata, questi tre dalmata, per rincorrerla, praticamente lei fugge all'esterno, è sera, all'esterno questa villa si trova su una scogliera, per rincorrerla si imbattono nella mamma della bimba che viene scaraventata di sotto dalla scogliera. Questo è il secondo punto che mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che è una morte, quella della mamma, che è un po' troppo finta, nel senso che comunque, sì, ci sta che magari il cane viene lì per difendere il territorio, poi durante il film si scopre anche perché quei tre cani erano così addestrati e così sono andati dritti a cercare la bambina e poi si sono imbattuti nella mamma e addirittura l'hanno spinta di sotto. È un po' troppo, sinceramente, è una cosa che magari avrei fatto vedere diversamente, rendendola forse più verosimile questa morte, che condizionerà la bambina per tutta la vita. La bambina cresce, quindi cresce da sola, con due amichi, due amichetti, due amici, mi è uscito amici, che nel film vengono chiamati Horace e Jasper, che altro non sono che Gaspare e Horacio del cartone animato. Infatti, mi è piaciuta molto questa cosa anche perché fisicamente i due attori somigliano molto ai personaggi del classico Disney. In pratica, la ragazzina cresce, diventa adolescente, tutti e tre fanno dei furti, arrivano a rubare, a creare una piccola gang, fino a che non trovano lavoro a lei in un negozio, in un grande negozio, in un grande atelier, dove si vendono vestiti, si parla di moda, e lei era sempre stata, diciamo, appassionata alla moda, ma all'inizio ci lavora come sguattera, come pulisce i bagni, diciamo, viene anche maltrattata. E questo ti fa capire, questi passaggi ti fanno capire anche come cambia la questione morale e psicologica del personaggio di Crudelia. Ho detto, come fa una ragazzina che poi, alla fine, cresciuta praticamente da sola, poi a diventare quel, tra virgolette, mostro che abbiamo tutti conosciuto nel cartone, nel classico Disney. Ci sono dei motivi e devo dire che Emma Stone, ecco, qui invece mi stupisce, perché riesce a far vedere quella trasformazione che avviene tra il momento in cui la bambina, Estella, perde la mamma e il momento in cui viene maltrattata, fatta diventare quasi uno scarto della società fino alla rivalza che avverrà proprio perché a un certo punto in un impeto di rabbia e di frustrazione praticamente la vetrina di questo negozio la trasforma una sera che non c'è nessuno lei arrabbiata col suo capo si ubriaca e praticamente trasforma questo manichino. Il giorno dopo entra una famosa baronessa dentro il negozio vede questa questa vetrina e dice ma chi ha fatto quel lavoro e il padrone del negozio dice no una che abbiamo licenziato e lei dice no avete fatto male perché la assumo io perché a gusto il resto qui non mi piace. Praticamente Estella va a lavorare per questa baronessa e si vede subito che ha una sveltezza e una capacità di intendere la moda e di creare vestiti stile che piace molto alla baronessa che era una tipo quel mostro del Diavolo Veste Prada ecco non mi veniva il personaggio interpretato da Mary Streep nel Diavolo Veste Prada immaginatevelo un po' così questa baronessa e insomma Emma Stone si impone all'interno di quest'ambiente fino a scoprire che questa baronessa insomma nasconde dei segreti che non starò qui a svelarvi per non spoilerarvi ulteriormente poi quello che sarà il resto del film mi è piaciuto molto come è stata mostrata la trasformazione e la rivalza di una donna e Stella che poi cambierà nome in Cruella quindi Crudelia una persona che diventa crudele per alcune cose alcune azioni alcuni fatti che gli succedono perché poi se ci pensate avviene sempre in questo modo sono alcune esperienze che ti cambiano al punto oltre a delle perdite dei lutti e a dei segreti che poi vengono svelati durante il corso del film che ti portano a diventare totalmente un'altra persona ho apprezzato l'interpretazione di Emma Stone mi è piaciuta mi sono piaciuti gli effetti speciali e anche questa cosa questa sua passione per la moda viene molto sottolineata questa sua intuizione questo suo modo di pensare di essere avanti di capire la bellezza e quindi di disegnare la bellezza non appassionata e questa cosa poi si evincerà anche in futuro quando utilizzerà purtroppo anche le pellicce di dalmata per fare delle pellicce appunto dei vestiti quindi diciamo questa sua passione per la moda poi la porterà ad essere una persona cattiva ma cattiva ci è stata portata da alcune cose che poi gli sono successe e che ha scoperto soprattutto riguardo a sua madre e alla sua infanzia anche gli altri personaggi gli altri attori sono stati molto bravi è un film piacevole nel senso che ti dà una leggerezza e un modo anche di tornare al classico Disney con alcuni riferimenti nel finale titoli di coda si vede appunto c'è questa Anita Anita che viene mostrata come la giornalista che praticamente Crudelia conosce già quando è una ragazza e alla fine del film i titoli di coda regala questi due cuccioli proprio a Roger e Anita e Roger non sarebbe altro che Rudy del cartone insomma un film che mi è piaciuto queste cose diciamo che sono risultate poco verosimili diciamo che gliele abboniamo anche se avrebbero potuto diciamo è stato fatto un lavoro introspettivo personaggio di Crudelia che comunque è un'icona dell'antagonista del classico Disney avrebbero potuto magari mostrare alcune cose in una maniera più verosimile ecco diciamo questo era il mio pensiero io sono Valerio Novara ci vediamo al prossimo video qui su Fage Network fatemi sapere cosa ne pensate se avete visto il film e ditemi la vostra nei commenti al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti